... ... ... ... ... ... ... Mattinata di sangue e due incidenti mortali a Campochiaro si scontrano un'auto e un tre ruote un 85enne perde la vita nelle campagne di spinete a un uomo di 60 anni resta schiacciato dal trattore i lavoratori bloccano il consiglio regionale causa Palazzo Moffa la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva GAM, zuccherificio e precari hanno dato l'assalto alla casta seduta a sospesa e rinviata alle 16 bocciato il bilancio Brasiello vacilla il documento finanziario non passa l'esame della commissione Turbolenze a Isernia e nel PD c'è aria da resa dei conti Test di medicina in 400 a Campobasso si sono presentati da diverse regioni la metà dal capoluogo e da Isernia 80 posti disponibili nell'Ateneo che si è piazzato tra i primi 5 d'Italia Campionato Juniores di Ramati Gironi le tre molisane inserite nel gruppo F con Abruzzo e Marche la prima giornata sabato 19 in serie di ripresi gli allenamenti Buon pomeriggio come avete sentito nei titoli c'è la cronaca in apertura del telegiornale con due gravissimi incidenti avvenuti a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro stamattina un anziano di vinchiatura è deceduto dopo uno scontro tra l'ape car sul quale viaggiava e una panda pochi invece qualche ora fa un uomo di 60 anni di spinete è rimasto schiacciato dal trattore su cui era al lavoro nei campi in contrada Jaco Vantuono ma andiamo con ordine vediamo i dettagli e la cronaca di quanto accaduto sulla statale albivio di Campochiaro Giovanni Di Tota Solo pochi metri mancavano pochi metri alla destinazione che aveva in mente ma quella panda con ogni probabilità non l'ha nemmeno vista arrivare sulla corsia opposta il giovane alla guida della Fiat quella sterzata improvvisa non l'ha messa nel conto l'urto micidiale ha quasi disintegrato la pecar sulla quale viaggiava Giovanni Di Sisto 85 anni partito qualche minuto prima da vinchiaturo e forse diretto in questo vialetto che aveva deciso di imboccare in vano perché quel tre ruote è come esploso il mezzo si è capovolto perdendo le ruote e il cassonetto il motore si è staccato dal resto del veicolo ed è rimasto in mezzo alla strada come un macabro reperto cerchiato poi dal gesso bianco dei vigili della Polizia Municipale di Boiano arrivati sul luogo dell'incidente insieme alle ambulanze alle auto dei carabinieri e ai vigili del fuoco Giovanni Di Sisto stando a quanto si è appreso è deceduto pochi attimi dopo l'arrivo dei soccorsi il giovane alla guida della Panda ferito è stato trasportato al cardarelli di Campobasso secondo una prima ricostruzione avvenuta sul posto e dunque non ancora ufficiale sarebbe stata proprio questa la dinamica con l'auto che proveniva dalla direzione Campobasso e il tre ruote dal lato opposto 100 metri dopo il bivio di Campochiaro in pieno rettilineo lo scontro a dire con esattezza cosa è accaduto saranno le indagini dei carabinieri il traffico è stato interrotto per un paio d'ore poi quando il magistrato ha disposto la rimozione del corpo dello sfortunato anziano e i mezzi sono stati spostati dalla carreggiata il transito sulla statale regolato dal personale dell'ANAS è tornato regolare come dicevamo un uomo di 60 anni in tarda mattinata è morto travolto dal suo trattore che si è ribaltato mentre lavorava nei campi in contrada Iacova Antuono a Spinete sul posto 118 i vigili del fuoco la vittima era sotto il mezzo e non c'è stato purtroppo nulla da fare nelle prossime edizioni del telegiornale gli aggiornamenti una nostra truppa sul posto e adesso cambiamo argomento e parliamo dei lavori del Consiglio regionale che sono stati sospesi e rinviati alle 16 al rientro dalla pausa estiva davanti a Palazzo Moffa la protesta di lavoratori delle aziende chiuse in difficoltà e dei precari un vero e proprio assalto alla casta sbeffeggiata e derisa alle 15.30 è previsto un incontro tra il governatore Frattura e i lavoratori che stanno protestando ma sentiamo Giovanni Minicozzi è stato un amaro rientro quello dei politici regionali per la prima seduta di Palazzo Moffa dopo la pausa estiva assente il presidente Paolo Frattura in altre faccende a faccendato ad accogliere i consiglieri sono stati i lavoratori della GAM e quelli dello Zuccherificio due aziende partecipate dalla regione che hanno chiuso i cancelli da circa due anni neanche il tempo di dare inizio ai lavori e c'è stato un vero e proprio assalto alla casta derisa e sbeffeggiata dai lavoratori stanchi di ricevere promesse mai mantenute dal governo regionale lasciate a guardare gli altri punti la prima risposta è la loro il consiglio non deve proprio iniziare per favore allora vedi per favore per favore per favore allora io glielo chiedo per favore Allora ascoltiamo quando lei è a terminare, noi cerchiamo di riprendere il lavoro. Ve lo chiedo per favore, oggi pomeriggio sarà qui il Presidente rappresentante. Non si prega, 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 non si prega. Ve lo chiedo per l'annessima volta. Vi collegate queste persone, dove cazzo le devono collegare? Chi avete usato tutto? 150 dottori se ne entrano a casa per matare. Per favore. Io sono un po' pacifo. Chiamate il Presidente, vengono qui. Vado, 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 vado. Ve lo chiedo per favore. Come si cambiandona la usa? Vado, vado, vado! Vado, vado! Vado, ne ce lo fate voi, a noi siamo in realtà! Vado, vado, vado! Vado, è il lavoro. Visto che non ci sono ricercato in parte del Senighi, évidemment, di chiedi. Possiamo guidare FOS sia in parte del Senighi. Vado, vado, vado! Allora, così è sofficiale. Presidente. Stiamo in un limbo, è meglio essere stracomunitari, per lo meno qualcuno ti viene a riprendere, ma questo, manca questo, manca anche stracomunitari. E fra poco non potremo bere neanche l'acqua perché non abbiamo l'acqua, però la tasse la dobbiamo pagare. La regione sta minacciando i comuni di commissariamento per privatizzare l'acqua, vergogna, neanche l'acqua potremo bere più. La regione di missioni, andare a casa, non so tre anni che ci sta pregando in giro, tre anni, strada di missioni. Il Consiglio regionale è bloccato dunque in attesa dell'arrivo di Paolo Frattura e palese distacco abissale tra il governo regionale e lo stesso Frattura con i lavoratori alla canna del gas. E c'è una novità sul fronte della vicenda che ha visto protagonista il governatore Frattura durante lo svolgimento del Consiglio regionale del 30 giugno scorso. Ieri mattina la procura di Campobasso ha inoltrato la richiesta di accesso agli atti della seduta finita nel mirino degli inquirenti. Come qualcuno ricorderà, in quell'occasione il presidente della regione Paolo di Laura Frattura, chiamato a rispondere sui fatti che avevano coinvolto l'assessore regionale Massimiliano Scarabeo, si esibì a sorpresa nella lettura del tutto anomala per un contesto istituzionale di presunte intercettazioni telefoniche riguardanti il magistrato Fabio Papa, tra l'altro contenute in atti giudiziari non pubblici. Ebbene, i dialoghi letti da Frattura spacciati per intercettazioni telefoniche sono stati oggetto di immediate denunce, in quanto completamente inventati, come era facilmente dimostrabile con il semplice confronto tra quanto dichiarato dal presidente, gli atti realmente contenuti nel fascicolo giudiziario. La procura di Campobasso avrebbe dunque aperto un fascicolo su una vicenda che ha suscitato giustificato clamore, tanto più grave se si considera che ad essere pubblicamente chiamato in causa è stato lo stesso magistrato che aveva indagato il governatore. Situazione politica sempre più incandescente. Incandescente a Isernia, al Comune la prima commissione ha bocciato il bilancio, nel PD intanto è già partita la resa dei conti, sia per le vicende di Palazzo San Francesco, sia per la mancata solidarietà a Massimiliano Scarabbeo da parte della Segreteria Provinciale. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Aria politica avvelenata nella sinistra Isernina, in particolare nel Partito Democratico. Per quel che riguarda il Comune c'è da registrare il clima irrespirabile che si è creato tra le varie anime del PD, dopo la sonora bocciatura del bilancio in commissione con il voto negativo della stessa presidente. Per il PD ha votato a favore solo la Melaragno, quindi un Partito Democratico spaccato anche sul bilancio. Non approvarlo manderebbe tutti a casa, sindaco compreso. La seconda questione, sollevata pesantemente dalla componente vicina a Massimiliano Scarabbeo, fa suonare le campane a morto per l'attuale Segreteria Provinciale. Infatti, per i numerosi iscritti vicini all'ex Assessore, bisognerà chiarire al più presto, nei tempi e nei modi più opportuni, una questione di rappresentanza all'interno degli organi del partito e una questione di opportunità. Perché si chiedono e chiedono agli organi direttivi del partito? Per Carlo Veneziale è stato fatto immediatamente un comunicato di auguri per il suo ingresso in Consiglio regionale al posto di Scarabbeo e a quest'ultimo, invece, è stata clamorosamente negata la pur minima solidarietà, pur nel doveroso rispetto dell'operato dei giudici? In certi casi, dice la componente vicina all'ex Assessore, il partito potrebbe e dovrebbe dire, nel rispetto della magistratura, siamo vicini al nostro iscritto, certi che riuscirà a dimostrare la sua estranetà ai fatti. Invece, niente di tutto ciò, anzi, la segreteria regionale arrivò subito ad attivare le procedure di sospensione. È stato giusto un atteggiamento così discriminante nei confronti del politico PD più rappresentativo a livello della provincia di Sernia? Insomma, mal di pancia e promesse di chiarimenti a stretto giro di posta. L'impressione comunque è che nella pentola del PD la temperatura sia prossima all'esplosione, tra incomprensione e distinguo sia al Comune che nel partito. Mentre i sindaci protestano contro la Costituzione del Legam, sono circolate nelle ultime ore indiscrezioni eclatanti che, se confermate, attesterebbero l'ennesimo scenario dell'uso privato delle istituzioni a danno dei cittadini e del bene comune. Sentiamo ancora Giovanni Minicozzi. Continua il braccio di ferro tra una ventina di sindaci e la giunta regionale sulla Costituzione del Legam e sulla probabile privatizzazione del servizio idrico integrato. In particolare, i primi cittadini si chiedono come sia possibile minacciare il loro commissariamento in caso di mancata adesione con una delibera di giunta. Tale delibera, infatti, è stata inserita a posteriori in una proposta di legge al vaglio della Commissione e non ancora approvata dal Consiglio regionale. Peraltro, nelle ultime ore è circolata con insistenza l'indiscrezione secondo la quale il modello preso a riferimento dal Presidente Paolo Frattura sarebbe quello della CEA di Roma, ovvero una SPA quotata in borsa che di fatto ha privatizzato la distribuzione dell'acqua e delle relative tariffe. Non a caso, il disciplinare allegato alla delibera prevede pieni poteri in capo al futuro direttore generale del Legam il quale verrà nominato dai sindaci ma d'intesa con il Presidente della Regione. A tal proposito, sempre secondo i ben informati, si sarebbe tenuto un incontro presso il sontuoso studio di un noto avvocato di Campo Abbasso, amico del Governatore, tra un top manager del settore, una nota consulente di Paolo Frattura che sarebbe in procinto di essere nominata al vertice del Legam, il titolare del predetto studio legale e un imprenditore privato che da tempo guarda con interesse alla gestione del servizio idrico e che in passato è stato socio della Regione in altri settori produttivi. L'indiscrezione tale è al momento, se fosse vera sarebbe eclatante e confermerebbe per l'ennesima volta l'uso privato delle istituzioni regionali come accade da circa tre anni, questa volta addirittura a danno di un bene pubblico come l'acqua. La Segreteria regionale di Democrazia Popolare insieme ai consiglieri di Campo Basso, Pilone e Cancellario sono tornati sull'adesione del comune al Legam, ribadendo le proprie perplessità e i dubbi di legittimità sia sugli atti deliberativi regionali sia comunali. Pilone e Cancellario hanno sottolineato che sia l'istituzione del Legam sia l'esclusione dei servizi idrici attualmente gestiti da Moliseacque e potrebbero risultare nulli per violazione di legge. Infatti hanno aggiunto ogni qualsivoglia azienda, ente e società regionale secondo i principi costituzionali viene istituita con legge regionale la promulgazione di leggi regionali e di esclusiva competenza del Consiglio su proposta approvata dall'Aggiunta. Ad oggi, dunque, hanno concluso non vi è alcuna legge istitutiva del Legam. E al via oggi i test di ammissione all'Università per la Facoltà di Medicina e Chirurgia anche in Molise moltissime le richieste soprattutto dagli studenti pugliesi e campani la maggior parte però sono molisani sentiamo Silvia Valente. È cominciata oggi l'avventura degli aspiranti medici con il consueto e tanto discusso test di ammissione all'Università che in Molise ha richiamato quasi 400 candidati. Solo per 80 di loro però si apriranno le porte dell'Ateneo 10 in più rispetto all'anno scorso mentre il dato nazionale cala con 400 inserimenti in meno in riferimento allo stesso periodo. La metà dei concorrenti è arrivata dalle province di Campobasso e Isernia mentre il resto soprattutto dalla Puglia e dalla Campania con qualche presenza abruzzese e del Basso Lazio. Un ottimo risultato per l'Ateneo molisano che stando alle classifiche risulta fra i migliori d'Italia al quinto posto per il livello di preparazione degli studenti di medicina. Insieme alla sede di Salerno e alla Federico II di Napoli l'Università degli Studi del Molise ha dimostrato grandi miglioramenti nella didattica rispetto al 2006 anno in cui risultava fra gli ultimi posti nella classifica nazionale. Il test di ammissione uguale per tutti i candidati e svolto in contemporanea consiste in 70 acquisiti da risolvere in 100 minuti. Cultura generale, logica, biologia, chimica, matematica e fisica queste le materie con cui le matricole si sono confrontate con qualche differenza rispetto all'anno passato nel numero di domande per argomento. Qualche malumore si è levato dai sindacati degli studenti che considerano la modalità del quiz discriminante perché, come hanno detto, la selezione andrebbe fatta sulle capacità dimostrate negli anni di studio e non sulla base di test. L'Università deve essere aperta a tutti e senza barriere ha detto il coordinatore dell'Unione degli Studenti Danilo Lampis a cui si sono aggiunte le parole del portavoce della Rete della Conoscenza Riccardo La Terza lapidario nell'affermare che non c'è alcun criterio per selezionare un numero così basso di aspiranti medici perché tutte le proiezioni dicono che nei prossimi anni si acquirà la carenza di medici a causa dell'alto numero di pensionamenti a concluso. In Molise la situazione non è differente anzi la crisi che sta investendo il settore della sanità non lascia intravedere niente di buono. Alla laurea, per chi ce l'ha fatta oggi, ci vorranno cinque anni e ci si augura che fino ad allora la sanità molisana sia guarita. Domani in Molise gli studenti torneranno in aula per la ripresa dell'anno scolastico a causa di lavori di ristrutturazione di alcuni locali al convitto Mario Pagano di Campobasso lezioni posticipate a lunedì 14 settembre per gli alunni della secondaria di primo grado e dello scientifico ospitati nella struttura agli studenti della primaria sempre del convitto Mario Pagano invece cominceranno regolarmente l'anno scolastico domani. Il comune di Boiano sta per essere travolto da uno scandalo legato a un presunto conflitto di interessi che coinvolgerebbe un assessore della giunta Silvestri e che riguarderebbe un progetto per l'accoglienza dei migranti ma sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Anna Maria Di Matteo. Terremoto politico in vista al comune di Boiano alla vigilia dell'avvio della campagna elettorale nel capologo Matesino si voterà la prossima primavera sull'amministrazione di centrodestra guidata da Antonio Silvestri si abbatte lo scandalo di un presunto conflitto di interessi che riguarderebbe un assessore della sua giunta sul grande affare dell'accoglienza dei migranti ma vediamo i fatti secondo l'articolo a firma di Giuseppe Formato pubblicato su Quotidiano CB Live la giunta comunale con apposita delibera ha autorizzato due comunità per minori gestite da una cooperativa sociale e ospitati in due locali riconducibili alla proprietà dell'assessore del comune di Boiano Angelo Bernardo a questo punto è legittimo chiedersi se si è stato fatto un bando per scegliere i locali o se invece qualcuno li abbia suggeriti così come viene da chiedersi chi li abbia suggeriti e se percepirà un affitto il proprietario dell'immobile o invece saranno occupati dalle comunità gratuitamente le risposte sono negli atti non allegati alla delibera ma a distanza di oltre due mesi i cittadini che ne hanno fatto richiesta sono ancora in attesa di poterne prendere visione insomma un tempismo a dir poco sospetto che coinvolge direttamente personalmente un assessore della giunta di centrodestra in una commissione tra affari privati e interessi pubblici in questo caso addirittura umanitari che sta indignando i boianesi e sarà portata assicurano all'attenzione degli organi di controllo il sospetto infatti è che dietro questo episodio si nascondano le prime mosse sullo scacchiere politico in vista delle prossime elezioni comunali per blindare una maggioranza ormai ai minimi termini la maggioranza eletta con il centrodestra in procinto di passare armi e bagali dopo anni al fianco dell'ex governatore Iorio alla corte di frattura che ha già avviato la campagna acquisti strizzando l'occhio ai forzisti boianesi con il consueto walzer di poltrone incarichi pagati con i soldi dei contribuenti molisani e di pochi giorni fa infatti l'incarico conferito al vice sindaco Policella nel CDA di Molise Sviluppo da sempre vicino a Iorio e di Antonella Nardella nipote di Angelo Arena consigliere comunale vicino a frattura che il governatore avrebbe ricompensato con la nomina della familiare scontentando tanti altri coetanei ugualmente capaci ma forse privi del santo in paradiso resta da capire che posizione assumerà il PD locale di fronte al cambio di casacca preannunciato dai forzisti locali verso frattura e come reagiranno di fronte a questo presunto conflitto di interessi scandaloso che riguarda l'assessore Angelo Bernardo è probabile che resteranno in silenzio per compiacere frattura che di conflitti di interessi se ne intende un imprenditore edile di Isernia e il titolare di un'azienda agricola di Venafro sono stati denunciati per sfruttamento del lavoro nero durante i controlli eseguiti dai carabinieri sono stati individuati cinque lavoratori non in regola due dei quali di nazionalità indiana a Baranello è stato inaugurato il secondo lotto del polo scolastico sentiamo e andiamo avanti con il telegiornale non è pronto il servizio migliaia di fedeli hanno raggiunto Castelmauro per partecipare ai solenni festeggiamenti dedicati alla Madonna della Salute quattro giorni di iniziative che richiamano nel piccolo centro numerosi emigrati anche dall'estero Fabrizio Eccionero più di 3.000 fedeli hanno partecipato alla fiaccolata che ha aperto a Castelmauro i festeggiamenti in onore della Madonna della Salute un lungo corteo partito dal santuario si è snodato lungo le strade per condividere un pellegrinaggio che si perde nel tempo silenzio e preghiera giovani e anziani le generazioni si incontrano in una festa che ogni anno richiama nel piccolo centro migliaia di persone la devozione per la Madonna alla quale si attribuiscono tante grazie segno anche degli ex voto che adornano la statua e la sua base è fortissima e sono tanti anche gli emigrati che dall'estero in particolare dal Belgio tornano nel paese di origine per partecipare ai quattro giorni di festa il nome Madonna della Salute ecco si dice che sia stato dato da Monsignor Pedicini il vescovo di Guardia Alfiera a suo tempo che in seguito a una pestilenzia che si era sviluppato qui a Castel Mauro in seguito delle preghiere fatte ecco a momento di preghiera di tutta la comunità questa peste questa malattia si sarebbe bloccato e allora Monsignor Pedicini ha attribuito questo miracolo proprio alla Madonna quindi in quell'occasione avrebbe dato il nome Madonna della Salute durante la fiaccolata un grande spettacolo pirotecnico accompagnato l'ingresso della statua della Madonna in paese la messa nella chiesa parrocchiale è stata celebrata dal vescovo Gianfranco De Luca alla presenza di altri sacerdoti della diocesi un fitto programma religioso e di trattenimento curato con impegno dal comitato feste e tra le iniziative la squadra degli anziani si è giudicata all'asta con la squadra dei giovani che stabilisce chi avrà l'onore di portare la statua della Vergine della Salute in processione la festa vediamo la sera di stasera i gruppi che vengono da fuori con i loro canti tipici alla Madonna gli occhi pieni di lacrime è suggestiva questa festa è molto suggestiva per chi tocca il cuore è suggestiva e tu personalmente come la vivi? beh io la vivo sì dal comitato feste però bisogna viverla veramente con criterio e con cuore un'emozione che si rinnova in un clima di significativa partecipazione popolare più di 130 donne del paese hanno organizzato anche una colletta durante l'anno per sostenere la riuscita della festa 16 lunghi anni e questo è il tempo trascorso dall'ultima professione di voti perenni alla parrocchia del Sacro Cuore a Campobasso questa sera alle 18 con una cerimonia di grande suggestione alla quale sarà presente l'arcivesco Bregantini ci sarà l'ordinazione di due nuovi frati sentiamo Pasquale Di Bello festa grande alla parrocchia del Sacro Cuore a Campobasso dopo un tempo infinito 16 lunghi anni due frati tornano a professare i voti perenni di povertà obbedienza e castità nel convento francescano del capoluogo fra Nicola Maio da Benevento e fra Raffaele Armiento da Mattinata mettono definitivamente la propria vita al servizio della chiesa e della fraternità francescana la cerimonia alle ore 18 due giovani rispettivamente di 25 e 28 anni che giungono a questo traguardo dopo un periodo di studio e formazione svolto proprio all'interno del convento del Sacro Cuore una scelta definitiva radicale e controcorrente in un mondo dove tutto sembra essere invece destinato al provvisorio che cosa vuol dire per un giovane di 25 anni intraprendere questa strada prima di tutto è accettare delle sfide e degli impegni questo vorrei dire in un mondo che va alla deriva in un mondo dove tutto diventa relativo dove l'impegno il per sempre diventa difficile noi io e Raffaele cerchiamo davvero di dare questo segno di testimonianza che il per sempre e per qualcun altro in questo caso per Dio si può fare è possibile ad attendere adesso fra Nicola e fra Raffaele ci sono le strade del mondo dove entrambi si recheranno ad annunciare la buona novella fra Nicola volerà in Irlanda mentre fra Raffaele è destinato al convento Cappuccino di San Giovanni Rotondo abbracciare in modo definitamente quella professione perpetua per me vuol dire questo incontro d'amore con il Signore questo incontro definitivo con Lui ma in modo particolare questo incontro con questa persona tu per tu dove il Signore è presente realmente nella mia vita coltivando anche con la preghiera con la vita fraterna in modo particolare in questo giorno particolare per noi due per me e fra Nicola il Signore innanzitutto è presente nella nostra vita come dicevamo nei momenti alti e bassi in modo particolare è presente nei fratelli incontrando il Signore anche nelle come dice il Santo Padre Papa Francesco nelle periferie della città e il servizio sull'inaugurazione del Polo del secondo lotto del Polo Scolastico di Baranello lo vedremo nell'edizione delle 19.30 del Tg intanto Molise Abruzzo Campania ora anche Puglia queste le quattro regioni che hanno aderito al Network Culturale Borghi della Lettura ideato dai giovani molisani Roberto Colella e Davide Vitiello del progetto al momento fanno parte 12 comuni proprio ieri l'adesione della comune di Sant'Agata di Puglia un suggestivo borgo in provincia di Foggia e nell'ambito del settembre Isernino nel chiostro di Palazzo San Francesco è stato presentato il libro di poesie di Marilena Ferrante e sentiamo Sergio Di Vincenzo quel che avrei potuto dirti versi rompenti dalla caverna dell'anima edito dalla Volturni Edizioni è la sintesi del percorso interiore dell'autrice ma al tempo stesso si propone come uno strumento utile per affrontare la vita di tutti i giorni con maggiore consapevolezza e perché no serenità il libro di poesia scritto da Marilena Ferrante è stato presentato nel chiostro del comune di Sernia è stato ispirato dalla mia vita dal trascorrere delle mie giornate delle mie ore delle mie passioni e dei miei sentimenti poiché reputo che la poesia è un canale privilegiato per poter affrontare le questioni di tutti i tipi di qualsiasi di carattere umano e di carattere intimo se leggerete il libro io spero che tutti possiate avere questa possibilità troverete delle congetture delle riflessioni che hanno a che vedere con l'intimo di ognuno di noi per Marilena Ferrante la poesia non è solo utile per guardarsi dentro ma anche per parlare al cuore delle persone in particolare a quello dei giovani con i quali grazie alla sua attività di insegnante vive quotidianamente a stretto contatto tutti i giorni noi possiamo fare poesia nelle nostre cose nelle nostre azioni nei nostri pensieri io personalmente privilegio il rapporto umano con gli alunni che affianca naturalmente il rapporto didattico educativo ma la cosa che mi preme di più è proprio arrivare al loro cuore è tutto il nostro telegiornale delle 14 termina qui dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea i colleghi dello sport noi ci vediamo per l'edizione delle 15 buon pomeriggio per l'edizione